Per quest'oggi utilizzeremo un qualcosa che rivoluzionerà tutti i mondi di Minecraft Perché avremo la possibilità, ok, di nascondere le nostre basi a qualsiasi player di qualsiasi mondo di Minecraft Perché abbiamo degli oggetti che ci permettono proprio di non far capire in nessun modo che in un posto c'è l'entrata di una casa Allora, mi sono fatto preparare dall'assistente segreto tre esempi di passaggi segreti che si possono fare Dopodiché andremo a provare a farne uno anche noi per farti capire le potenzialità di questi oggetti, va bene? Sì, certo Allora, ad esempio, tu adesso vedi questa bellissima cupola di bedrock con delle sigliane Sì, è un uovo gigante, Steph E tu vai intorno e dici, ma Steph, ma come ci dovremmo entrare? Dobbiamo scavare verso sotto, scavare verso l'altro Cioè, come potresti mai fare? E ti dico, Fer, è molto semplice Vieni con me, guarda, facciamo tutto il giro perché ormai l'abbiamo finito Tu vieni qua e fai semplicemente, opla Come hai fatto, Steph? Vieni, vieni, vieni Non è magia, semplicemente quel blocco non esiste È un blocco finto Esatto È un blocco finto Esatto, Fer In realtà non esiste questo blocco Questi sono veri? Questo non c'è, giusto? No, non c'è nessuno di quelli Tu lo puoi colpire, così ti dà l'inganno, Fer Esatto, io lo posso colpire, guarda Sì, tu lo puoi picconare, lo puoi rompere, ma in realtà non è vero, non esiste Quindi se uno non prova ad andarci Esatto Attraverso Che non so chi va dritto di faccia sull'ossidiana Sarebbe molto strano e molto bizzarro E quindi tu pensi, ah, qua è protetto bene, non ci posso fare nulla Non c'è nulla E invece poi c'è una bellissima casetta Fighissima sta roba Vero? Fighissima Allora, e ti garantisco che ci sono tante altre cose che poi vedrai Qua c'è, non lo so perché l'assistente segreto ci ha messo un arco con delle frecce Però io le ho prese Prendile, magari ci serviranno, ancora non sappiamo Qua ci sono un sacco di ricchezze, ma non abbiamo un piccone, quindi non ce ne facciamo un gran che Però questo qui è appunto la prima base segreta Quindi, adesso seguimi perché ne abbiamo altre da vedere Allora, venga com'è, venga com'è Vuole vedere prima quella in acqua o prima quella nella miniera? Eh, in acqua, dai Ok, allora, quella in acqua Ci sta, sarà più particolare, no? È da questa parte, sì, è interessante Allora, noi andiamo qua Molto, molto, molto semplice Si vede che sul santuario, ovviamente, queste cose appariscenti L'assistente segreto perché ce le ha messe Per farvi vedere semplicemente le cose Perché altrimenti tu potresti, cosa ne so, mettere qua dell'acqua finta E in realtà è una porta per una base Certo, certo Lui l'ha fatta appariscente Ma poi anche perché così noi le troviamo, ste robe Esatto Non lo sappiamo dove andare Allora, tu scendi in questa sorta di santuario È tutto strabuio Se tu qua, però, vai dritta Trovi un passaggio segreto Aspetta, aspetta Fere, anche sapendolo, sta avendo un po' di difficoltà Dove sei? Ah, qui E infatti perché è molto buio Ce la fai? Sì, ho visto Ok, perfetto Ok E questo è il santuario del pesce palla Ok Ok Quindi il mio Per il mio cognome, Steph Non hai capito Ah Me lo mangio? No È velenoso, Steph Non si mangia crudo Ok, e questo era il secondo stile Adesso abbiamo il terzo stile Che fregherebbe, secondo me, davvero chiunque Puoi fare in realtà a noi Perché all'assistente segreto gli ho detto di non fare certe cose troppo fighe Perché volevo farle vedere io per fare il figo Ok Quindi noi abbiamo delle tecnologie ancora più avanzate di questi passaggi segreti Va bene Quindi queste sono le cose basilari Questa è proprio la base della base Avevano dei blocchi finti Ok Adesso ti faccio vedere l'ultimo modo di fare questi blocchi finti E dopodiché ti faccio vedere invece che tecnologie si sta tenendo, Steph Che secondo me sono proprio bellissime Uh, carino anche questo posto Allora, qua lui ci ha fatto la miniera Ci ha messo delle spade per indicarci dove andare Sì, delle indicazioni, infatti Esattamente Vedo, 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 vedo E qui abbiamo dei minerali Tu potresti provare a scavarli Vedi? E invece E invece, praticamente, è un passaggio segreto Uh, guarda dentro Questo è del vetro in realtà Perché praticamente qua abbiamo due tecnologie diverse Ok Abbiamo il blocco finto ed il blocco vetro Ok, infatti Vedo che poi da qui si vede che è vetro Mentre invece da fuori sembra un blocco di gold In pratica è un vetro in tutto e per tutto Quindi tu puoi vedere attraverso Cioè nel senso Pensa se qua adesso c'è un player di fronte Eh, esatto Tu lo vedresti Ed è un vetro in tutti i lati Tranne un lato E in quel lato prende il materiale del blocco che c'è vicino È strano da spiegare Non ho ben capito Guarda Vero? Ma come mi vedi? Assurdo Lo so Assurdo E tu non vedi nulla E io invece ti posso guardare No, no, no Eh, sono cose fighe Sono cose fighe Allora io però un attimino Scusate ma Ma Visto che ci siamo Tra l'allero Tra l'allà Tra l'allà Abbiamo fatto la sta cosa? Eh, penso proprio di sì Fai, scusate adesso mi serve questo Perfetto Eh, già che ci siamo Beh È gratis È la nostra base Mi sembra giusto che ce la possiamo prendere Allora, ok È pure una spada Mi prendo, va Va bene Io prendo questa d'oro Opla Allora Adesso io vado in game mode Perché ho bisogno di costruire E ti faccio vedere Cosa tutto siamo in grado di fare In realtà non è neanche tutto 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 quello che si può fare Perché Steph non è così bravo Però comunque un po' di cose le ho imparate E sono davvero davvero fighe Vai, fammi vedere, mostra Allora, con cosa partiamo? Partiamo con una casa in pietra Ok Ok Che ha una porta in ferro Mmm, sì Ci sta Ci sta, ci sta Che sta ragionando, eh Sta ragionando Allora, ti faccio vedere Facciamo proprio robe piccoline 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 Certo, certo Prova a indovinare secondo te cosa devo fare Se non è un blocco finto E non è neanche quello del vetro La porta finta La porta finta Che senso avrebbe? Cioè una porta tu pensi di poter entrare Perché tu la stai mettendo di ferro E quella si blocca Se non c'è Se non c'è il tastino, no? Ok Allora Quindi è finta Puoi iniziare a provare, eh Se vuoi Si può aprire? No Ok Tra poco capirai Non succede nulla Sei curiosa? Eh certo Allora, io devo semplicemente andare a mettere questo Quindi devo fare semplicemente Ta E ta Ok Allora Aspetta E dai Fai veloce Stavo finendo la casetta Quindi abbiamo una casetta completamente chiusa Con una porta in ferro Che Ferre A meno che non vai lì a piccone Spacchi tutto No, ovviamente Ovviamente È un casino Questa qua è una casa inespugnabile Ok Prova a premere tasto destro a fianco alla porta Lol Ma cos'è quindi? È un bottone Cioè che cos'è? È una leva Che ha l'estetica Una leva nascosta Di un blocco Bellissimo Tu vedi un blocco Ma in realtà qui dentro C'era una leva Quindi io vado a mettere così Tu fai tasto destro Apri chiudi Bellissimo Bellissimo Sì Secondo me Questo è molto carino Anche molto utile Perché ovviamente noi qui lo stiamo facendo vedere È una casa basilare Ma immaginate In una costruzione enorme Esatto Dove magari ci devi nascondere delle cose Lì è bello Adesso invece Tipo le armi Steph Capito? Buon modo per nascondere Ma è sempre quello tu pensi cara Certo Allora invece adesso ti faccio vedere Un'altra cosa interessante Venga con me Venga con me Sotto terra? Sì 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 Dobbiamo fare un bel lavoretto Ok tutto bene Sì sì tutto bene Certo che potrebbe dare Una mano a costruire No 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 Mi piace stare in survival Steph Sto anche per morire di fame Io continuo a darti i cefoni Perché sei fissa in mezzo Ok vabbè Può bastare no? Sì Ci stiamo capendo Tanto è giusto per darle l'idea Ad esempio potrei fare così Insomma Per intenderci Questo è un posto Ah non mi stavi facendo vedere qualcosa di serio Steph era solo ancora la tua decorazione Esatto Perché mi hai sfidato E quindi ho iniziato a decorare No io pensavo stessi già iniziando a mettere qualcosa di particolare Allora e fare come risali? Non lo so Non hai il trucco segreto per farmi risalire? No Dai Steph che noioso Te l'ho detto che dovevi andare in game mode insieme a me In creative Io la chiamo game mode Non mi frega nulla No la game mode sono tante Lo so Posso chiamarle cose come voglio Non posso? Non dite le parole Ti spiego Io ve l'ho detto Non lo so fare Ok 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 Vai via Allora Venga via Pere non rovinarlo Devo fare le presentazioni alle cose Ma tanto Steph sei inutile È bruttissimo Una base segreta Ok Non lo sapevo che ce l'avevamo Steph Adesso vieni via Vieni con me Vieni vieni Seguimi No perché ti devo far entrare nel ruolo Perché tu così la banalizzi Ti dimentichi che è qua Steph Vieni Dai che hai già fatto tutto Allora Allora Siamo dei player che stanno giocando in minecraft Ok No Avventura classica Stiamo esplorando Vai avanti Oh che bello C'è un bel sole Esatto I fiori profumano di fiori E quindi Se tu passi di qui non pensi Ci può essere una casa segreta In realtà Tre di questi blocchi Sono vetro finto Mentre il quarto non esiste E tu puoi scendere E se guardi verso l'alto Avresti anche la vetrata così Poi non so perché è diventato Quei tanto buio Perché Steph ha chiuso tutto E perché Steph non è molto capace Ad arredare A fare le cose giuste Ecco qua Ecco qua Guarda quanto c'è bello Quanto bello Quindi era giusto per far capire Anche ai consolini Che Ok l'assistente segreto Ha preparato delle cose appariscenti Che si capisce Che sono finte Lo capirebbe Un po' chiunca Abbastanza facilmente Ma quando poi Lo vai a rendere segreto Sicuramente La cosa complicata Se lo fai così Ricordarti anche tu stesso Dove è È molto complicato Magari ci dovresti mettere Qualcosa vicino Che te lo ricorda Tipo un albero No ma secondo me Potresti anche fare Semplicemente così È un fiore Perché vedi In questa vallata Ce ne sono già tanti Però ti ricordi Che dove c'è in basso Un buchetto E c'è quello Capito E ce la fai così Ti ripeto Bisogna avere una buona memoria Steph Solo te che si Ma poi scusate Magari uno cammina qua Tranquillo Sprofondo nel buco Steph Sì quello certo È il problema Che può esistere Il problema maggiore Io ho il dubbio Se si può mettere Il ghost block in acqua No Ok Serve tutto bellissimo Fare l'acqua finta Eh sì ovvio Aspetta Mi sta avvenendo un'idea Attenzione Forse fa Forse 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 fa Un attimino Io aspetto Aspetto qua Nel mentre Sapete che faccio Gioco a mirare Steph Un bel gioco Se io faccio così Un bel gioco E poi faccio Il ghost block Ok Eh Lascia il segno Eh sì È un peccato È un peccato No non fa Non fa Non fa Allora Un'altra cosa Che invece ho da farti vedere Che è molto molto carina È questa Come lo possiamo organizzare Ah sì guarda Utilizziamo una costruzione D'assistente segreto Ok Vieni come Vieni come Vieni come Ti faccio vedere Un altro stile Che può avere Una tua base segreta Ovviamente Può essere tutto Molto meno appariscente Blablabla Bli blablabli Se noi togliamo questi E mettiamo questo Non posso metterlo Dove c'è il vetro Aspetta un attimo Allora facciamo così Ok Facciamo così Non ho più dei blocchi Lui vuole essere utile È bravo Per vedere le cose Ma non ci riesce mai Fallo tu Vai 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 Non sai neanche come funziona Sta mod Beh mi hai detto Che l'hai guardata solo tu Sennò che sorpresa Sarebbe stata Per mettere Perché non posso mettere L'iron door In questo posto Non lo so Cioè c'è qualcosa Ok Era quello Allora Non la puoi sistemare In nessun modo Giusto? Cioè Hai la porta chiusa Non ci puoi fare nulla Ok Io adesso Non scondarla Steph Però va bene C'è buio C'è buio Strano Quindi mi lasci Un po' Spiazzata Non so se esultare Se dire bello Non bello Capito? No questa è carina Questa è carina Questa E sinceramente Mi piace anche più Dei blocchi in vetro Così così Ok Mi piacciono queste soluzioni Semplici e particolari Perché dai Chi è che ci pensa? Allora Secondo me In assoluto Quello che funziona di più È la leva Che in realtà è un blocco Sì Cioè secondo me Tu non farai mai Tasto destro Su un blocco Assolutamente no Mai Magari nella torcia Per sbaglio Ti viene anche da farlo Ti viene un po' lo schizzo Perché appunto Hai visto i film Ma un blocco di pietra Non lo farai Mai No quello è bello Quello è bello Mai 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 Perché tu ovviamente Puoi pensare Eh ma uno rompe Ma se stai giocando Mettimo in età Ehm Come si chiama Adventure Dove Non puoi rompere Non puoi rompere nulla Una casa del genere È fenomenale Esatto Una casa del genere È davvero davvero fenomenale Quindi fere 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 Questa roba Erano gli oggetti Che possono rivoluzionare il mondo Io ho in mente Una sfida da fare Contro di lei Proprio lei cara Sì sì lei Esattamente lei Con te Con gli uccellini Sto parlando con te Ho in mente Una sfida da fare In un altro video Se i consulini Piacciono molto I passaggi segreti Perché secondo me Quindi a chi fa La casa segreta migliore No E cos'era la sfida Non te lo dirò Dai dimmelo No non devi saperlo Tu non lo sapranno i consulini E allora come fanno A decidere se vogliono Se gli piacciono i passaggi segreti E se gli piacciono i passaggi segreti Noi faremo Sei troppo misterioso Stef Sei entrato troppo in tema Delle cose nascoste Sì Aspetta Ti ha dato un po' alla testa oggi Aspetta Tra me e te c'è un muro Che tu non vedi Alleluia Che bello Finalmente Ok Questa storia Maledetta Ti odio Alla spada indiamante Non ci provare Siamo entrambi Quindi non mi puoi picchiare Ok In ogni caso Ci premiamo così Per questo video Fateci sapere Se vi piacciono I passaggi segreti Secondo me È davvero davvero interessante Si possono fare Delle cose Davvero davvero fighe Sì ovvio Quindi fateci sapere Se avete rivedere E ci fermiamo così Sì